In Romagna, basta che vi siate veduti una volta o due, che nasce una confidenza, un affiatamento, tanto da parere una conoscenza di vent'anni. La Cucina Italiana Pellegrino Artusi, il padre della cucina domestica italiana. Perché Pellegrino Artusi, che nasce a Forlimpopoli nel 1820, è proprio colui che per primo ha raccolto e raccontato la cucina italiana nel suo La scienza in cucina e l'arte di mangiare bene, un libro che è entrato nella storia. La cucina è briconcella, spesso e volentieri fa disperare, ma dà anche piacere, perché quelle volte che riuscite o che avete superato una difficoltà, provate con piacimento e cantate vittoria. Casa Artusi si trova al centro del paese, nel bellissimo complesso monumentale della Chiesa dei Servi. Nella biblioteca di Casa Artusi sono conservati, come se il tempo si fosse fermato a riposare, il salotto e lo studio di Pellegrino Artusi, assieme alle sue lettere, ai suoi volumi, ai carteggi con i tanti che gli chiedevano il libro o gli mandavano quelle ricette che poi sarebbero state inserite nel suo manuale. Non vorrei però che per essermi occupato di culinaria mi gabbellaste per un ghiottone o per un gran pappatore. Protesto, semmai, contro questa taccia poco onorevole, perché non sono né l'una né l'altra cosa. Amo il bello e il buono ovunque si trovino e mi ripugna di vedere straziata come il suo rivolbirsi. La grazia di Dio. Nella cucina della casa, che ogni giorno ospita appassionati e professionisti, si svolgono corsi di cucina domestica. Il miglior maestro è la pratica sotto un esercente capace, ma anche senza di esso con una scorta simile a questa mia. Mettendovi con molto impegno al lavoro, potrete, io spero, annaspare qualche cosa. Ma la casa ha anche altri spazi, che ospitano eventi e incontri, tutti dedicati all'arte di mangiar bene. Fu proprio Pellegrino Artusi alla sua morte, nel 1911, dopo 60 anni vissuti a Firenze, a indicare la città di Forlimpopoli come erede. Un patrimonio, certo, ma soprattutto un libro. Un libro che non è solo il ricettario che per primo racconta la cucina domestica italiana, ma è anche un'opera di impegno civile. Attraverso le pagine del suo manuale, infatti, Pellegrino Artusi contribuisce a costruire la giovane nazione italiana nella lingua e nei costumi. 14 edizioni, costantemente aggiornate nel numero di ricette e nel linguaggio, come specchio dell'Italia che cambiava. L'ultima, tradotta in tante lingue del mondo, è ancora la sintesi della cucina nostrana. Con 790 ricette, raccolte attraverso una fitta corrispondenza con le italiane e gli italiani del tempo, come fanno i foodblogger di oggi. Forlimpopoli non ha dimenticato il suo figlio più illustre e ogni anno lo celebra con le feste artusiane, nove giorni a fine giugno, in un omaggio alla cultura del cibo. Perché proprio in questa casa, in questo paese, in questo territorio, si celebra la cultura del cibo come elemento di unione di collettività, di comunità e di accoglienza, così come lo prendeva. Pellegrino Artusi. Vedendo che si è giunti a innumerevoli ristampe, con milioni di esemplari, peraltro tradotti in svariate lingue, mi giova a credere che il codesto manuale sia ben vivo, in perciò che io vivo con lui e me lo porto appresso, come viatico e passaporto, a testimoniare nel mondo il bello e il buono della cucina domestica italiana. Grazie a tutti. Grazie a tutti.